Il servizio civile è sicuramente Dà molto aiuto E sicuramente È divertente Una bella esperienza Il servizio civile non è sicuramente Un lavoro Non è sicuramente perdita di tempo Fai un urlo Aaaaaah 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 Quante volte sei passata Quante volte passerai Consiglio questa esperienza a tutti quelli che Tutti quelli che hanno voglia di insegnarci qualcosa E di condividere questa esperienza con loro Tutti quelli che mi conoscono e che vogliono mi aggresci Questa esperienza se fosse un film sarebbe La vita è bella Il gladiatore Questa esperienza se fosse una canzone sarebbe Il cammino di Eros Ramazzotti Vivere di Vasconosso Uno slogan per descrivere questa esperienza Vieni e vedrai Lavorate sodo e lavorate bene Fai la faccia arrabbiata Scrivi in cinque parole la tua giornata tipo Sveglio Vengo al servizio civile Studio Varie attività serali Vado a nanna Fai la faccia felice Più felice Non riesco Studio Attività sportiva Ascolto la musica Leggo I volontari sono proprio in gamba perché? In gamba perché alcuni capiscono quello che fanno e ci mettono passione Perché sono delle persone fantastiche che ci credono sul serio Fai la linguaccia A volte mi fanno proprio arrabbiare quando Non collaborano Non fanno capire le mie battute Chi è che ha fatto queste domande? Gli utenti del servizio sono proprio in gamba perché? Perché mi insegnano un sacco di cose Perché ci sono io A volte mi fanno proprio arrabbiare quando 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 Si comportano in maniera poco sincera Quando si lasciano troppo andare La scena più bella che ricordi della tua esperienza di servizio civile? Tante, tante, troppe per cui non mi vengono in mente La scena più bella tutti i giorni Perché scegliere il servizio civile? Perché ti aiuto a crescere Perché ci servite, se no noi come facciamo? Luca Maria Carmelo Fabia Marco Ilia Valentina Luca Francesco Francesca Fabio Laura Mauro Pietro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.